Quindi intanto bisognerebbe lavorare per far sì che le regole all'interno del mercato europeo su questa materia valessero per tutti e che non ci fossero dei, vogliamo chiamarli paradisi fiscali, ma insomma che non ci fossero nazioni che lavorano per drenare gettito ad altre nazioni che fanno parte dell'Unione Europea. A livello nazionale chiaramente quello che noi possiamo fare è soprattutto lavorare per rendere la tassazione in Italia più competitiva.